Ci racconti un po' come sta andando questa settimana di allenamenti? Il lavoro è stato intensificato, ieri abbiamo fatto un grandissimo lavoro sulla difesa, quindi abbiamo molto caricato, si sono comportate molto bene, oggi abbiamo un po' sgravato a livello fisico, quindi abbiamo improntato il lavoro più sulla ricezione, sulla battuta e abbiamo fatto qualche fase gioco sulle posizioni di P1, nelle varie versioni e soluzioni, visto che comunque soffriamo molto ultimamente ricezione. A parte qualche assenza, tutti i fisici direi che ci stiamo preparando bene per il weekend. Allora ci puoi fare qualche anticipazione per la partita di sabato? Ma diciamo che sto valutando e sabato testerò delle soluzioni tattiche, visto alcune assenze che sembra che si protraggono un po'. Pertanto in serie D e in serie C volevo provare a mettere Baselari come opposto e spostare Giacomini come S1, in 18 sempre Giacomini in S1 e provare invece Tomasi come opposto. Quindi diciamo che Tomasi e Baselari in questo periodo qua li vogliono un po' testare come attaccanti esterni perché hanno comunque le attitudini tecniche per coprire entrambi i ruoli. Sia come centrali che come attaccanti esterni. Hanno delle buone caratteristiche di base e pertanto, ha visto che capita l'occasione, voglio testare questa cosa qua. Diciamo che la necessità si fa virtù. Poi nulla, voglio capire un po' di che passo siamo fatti perché siamo partiti bene in questo campionato qui, vincendo le prime due partite e soprattutto la prima partita è stata giocata molto bene contro la squadra che secondo me è nettamente più forte di noi e lo sta dimostrando anche dal risultato del campionato perché hanno perso soltanto contro di noi, poi hanno sempre vinto, hanno fatto nuovi punti poi. Mentre noi siamo andati calando, siamo andati calando e sembra che ci stiamo un po' accontentando di sapere giocare un po' a sprazzi e quando arrivano momenti un po' difficili facciamo proprio fatica, ma tanta fatica a cambiare palla. è nulla, questa è la quinta partita, due vinte o due perse e vediamo se andiamo su tre vinte o tre perse. Questo è un po' quello che voglio testare, ecco, siamo comunque in una fase di preparazione iniziale, un gruppo giovane, di conseguenza tutte queste cose che ci stanno, però dobbiamo anche cominciare a stringere e capire un po' bene quale ruolo vogliamo coprire in questo campionato di C.